Vado al massimo. Te la faccio un po' va? Sì. Vado al massimo. Vado al massimo. Vado a gonfie vele. Eh sì, è lui, è lui. A gonfie vele, sì, sì. A girare un'altra con più video. Voglio proprio vedere. E voglio proprio vedere. Questo è sui vitalizi. E voglio proprio vedere come va a finire. Aiaiaiaiaiaiai. Ce la fanno sudare e soffrire. Ce la fanno sudare? Aiaiaiaiaiaiai. Voglio vedere come va a finire. Andando al massimo senza frenare. Voglio vedere se davvero poi si va a finire male. Meglio rischiare che diventare come, come è, come quel tale che, 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 quel tale che scrive sul giornale. Bravissimo Matteo. Senti, Prasando Vasco, come andrà a finire con i vitalizi? No, deve finire bene perché questa cosa deve, deve chiudersi, bisogna approvare la legge, bisogna che i politici abbiano una pensione che hanno tutti i cittadini. E' molto semplice, senza eroismo, senza populismo, senza demagogia, ma è fondamentale farle cose seriamente. Grazie, grazie Matteo. Ciao, ciao a voi.